È passato, quindi possiamo iniziare e riprendere il giardino filosofico finalmente in presenza. Grazie a voi che siete qui, siete tanti, quindi c'è tanto entusiasmo che io proverò subito a spegnere parlando di pessimismo, quindi ammazziamo subito la serata. L'idea di parlare del pessimismo dell'Ottocento è venuta perché ci furono delle richieste nella primissima versione del giardino filosofico quando prima della chiusura eravamo in presenza e poi perché comunque è un argomento strettamente collegato sia a programmi universitari ma anche a programmi del liceo e perché comunque in un momento storico come questo parlare comunque di un qualcosa che guarda dentro l'interiorità e non soltanto l'elemento della rappresentazione perché questa è la caratteristica principale dei due autori che presenterò oggi, Arthur Schopenhauer e Zorin Kierkegaard, ovvero quello di spingere l'uomo a guardarsi dentro e non guardare fuori. Secondo loro guardando dentro l'uomo trova nero, trova opaco, trova le tenebre però l'alternativa è quella di rappresentarsi un fuori che in realtà poi non è così, quindi o vivere in un'illusione, in una menzogna o vivere nella profondità, però la profondità non è salvezza. Parto dal fatto che questi autori caratterizzano la prima parte dell'Ottocento ma diventeranno famosi nella seconda parte. Schopenhauer nasce nel 1788 e muore nel 1860, Kierkegaard nel 1813 e muore nel 1855. Schopenhauer almeno gli ultimi nove anni di vita godrà di fama dopo il libro Parergett Paralipomena del 1851 mentre Kierkegaard la fama l'avrà soltanto dopo la morte. Quindi sono due autori anche molto diversi l'uno dall'altro, li ho associati in questo ambito del pessimismo perché entrambi questi autori sono anti-hegeliani. E allora quando parliamo di Hegel può piacere, può risultare antipatico, può essere un filosofo che va in contraddizione anche spesso con un tentativo di armonia umana, però Hegel è stato l'Ottocento, cioè tutte le filosofie dell'Ottocento sono delle filosofie che nascono in contrapposizione ad Hegel. Quindi se tutte le filosofie nascono in contrapposizione ad Hegel, positivismo, marxismo e pessimismo, vuol dire che Hegel è il centro. Se tutti i filosofi sentono il bisogno di fare conti con Hegel, vuol dire che Hegel ha centrato, è stata una stagione cioè non è un caso che nel 1831 quando è morto Hegel si dicesse che quello era il funerale della filosofia non era il funerale di un filosofo, era morta una possibilità di fare filosofia e forse era morto proprio quello che Schopenhauer, che è il primo filosofo che affrontiamo oggi, ha davvero individuato, ovvero Hegel è un ottimista Hegel pensa che di fronte alla lacerazione, di fronte al conflitto, di fronte allo scontro, a una dialettica tra tesi e antitesi ci sia sempre la ricomprensione della sintesi, quindi c'è sempre un qualcosa che fa sentire l'uomo a casa sua cioè l'obiettivo dello spirito assoluto è proprio questo, il mondo una volta che sei giunto allo spirito assoluto è casa nella casa è dove uno trova le comodità, dove uno si sente sicuro, si sente protetto è vero che la casa a volte da promessa diventa anche minaccia, però tendenzialmente la casa è il luogo dove uno si sente padrone della situazione ecco l'uomo occidentale, secondo Hegel, raggiungendo lo spirito assoluto è padrone della situazione quindi non vive angoscia, non vive disperazione, non vive dolore se non in modo accidentale quelli sono i fatti che riguardano le singole persone, però per Hegel non è importante, e nemmeno per Schopenhauer la persona singola, l'individuo, è importante proprio una dimensione collettiva mentre per Kierkegaard diventerà estremamente importante anche l'individuo quindi vediamo che partendo da Schopenhauer, Hegel ci parla dell'astuzia della ragione tutto è reale e razionale, e ci parla dell'ottimismo della ragione la ragione ci deve spingere ad essere ottimisti perché le soluzioni le trova la storia non dipendono dall'uomo, l'uomo non è passivo di fronte alla storia l'uomo è come un attore in una serie televisiva, l'attore deve essere attivo, deve credere, deve provare le emozioni però tanto lo sceneggiatore ha già deciso, quindi la storia ha già deciso non le singole storie individuali, ma ha già deciso dove andremo e l'Occidente avrà la possibilità di diventare il dominatore del mondo perché tutto il mondo dovrà diventare occidentale Schopenhauer quindi si passa da un ottimismo della ragione a un ottimismo razionale, un pessimismo irrazionale proprio quindi l'esatto contrario Schopenhauer dice che il mondo è retto da una volontà di vivere che ha questa caratteristica è cieca, irrazionale, imperitura, incausata, eterna, malvagia quindi il mondo è retto da questo, da una volontà di vivere che è irrazionale e ci porta a star male, ci porta a vivere il dolore quindi è proprio l'esatto contrario, l'opposto di Hegel tant'è che poi c'è il famoso episodio del 1820 quando Schopenhauer, che era uno che diceva la vita non ha senso, che gli uomini pensano soltanto alla futilità però Schopenhauer diceva anche che la filosofia non ha bisogno di testimonianze non è che se io ho un pensiero filosofico poi lo devo testimoniare negli atti lui per esempio fece una lezione contro la sessualità contro il corpo che veniva mercificato contro le donne, perché era comunque antidonna più che maschilista Schopenhauer e poi gli studenti lo trovarono fuori da una casa di piacere e lui disse ma io non sono un fedele cioè io non devo testimoniare la mia filosofia la filosofia è una verità al di là della testimonianza si testimonia una fede un fedele deve testimoniare la sua fedeltà e il fatto che segue il messaggio divino un filosofo non ha il compito di testimoniare la filosofia non è testimonianza non è che se io ho un credo filosofico poi devo essere coerente con il mio credo filosofico questo è il pensiero di Schopenhauer oppure era uno che se lo faceva tornare però Schopenhauer inizialmente sembra anche un filosofo superficiale pulsionale che ogni tanto la spara così in realtà quando vai a leggere trovi una coerenza una linearità sulle tre grandi opere quadruplice principi di ragione sufficiente del 1813 il mondo come volontà e rappresentazione che è l'opera fondamentale di Schopenhauer del 19 e poi per Ergett, Paralimpomenah che non è un caso che vengono 32 anni dopo poi lui ha scritto su tutto ha scritto sull'ottica ha fatto saggi sulla vista, sugli animali perché lui si autorizzava a scrivere il suo pensiero era il suo pensiero quindi non è che doveva argomentare cioè pensare alla dimensione accademica la dimostrazione scientifica per lui quello che penso deve emergere però queste tre opere sono le opere che contornano la filosofia di Schopenhauer e dopo il mondo come volontà e rappresentazione che è andato al macero ben due volte e ha portato Schopenhauer veramente alla disperazione perché nessuno lo leggeva e quindi l'editore la prima volta li aveva stampato poi ha buttato via tutte le copie perché nessuno lo comprava ora è uno fra i 20 libri più letti del mondo quindi come cambiano le cose poi lui ebbe un riconoscimento dall'Accademia di Norvegia che non si aspettava all'Accademia Filosofica allora disse, visto che ha avuto questo premio con questo libro chiese all'editore di ripubblicarlo e finì nuovamente al macero invece l'unico libro che avrà successo di Schopenhauer è proprio delle cose futili parerga e paralipomena perché lì in pratica ritroviamo tutti gli elementi del mondo come volontà e rappresentazione ma scritti in maniera molto più accattivante aforismatica e inoltre ora Schopenhauer comincia ad avere delle ragioni perché fino al 1848 si pensava che la filosofia di Schopenhauer fosse proprio sbagliata perché bisognava essere pessimisti c'è una borghesia che sta trionfando c'è ci sono i moti rivoluzionari c'è una visione del mondo nuova quindi l'ottimismo di Hegel stava influenzando davvero o se non l'ottimismo di Hegel anche qualcuno l'idea di un mondo più giusto marxista dopo il fallimento dei moti del 48 tutta l'Europa anche la borghesia che ha spregiato Schopenhauer cade nel pessimismo e non è un caso che il suo successo avvenga proprio nel 1851 li farà godere appunto ci saranno scultori che faranno i busti di Schopenhauer pittori che gli chiedono il ritratto e lui è anche uno molto vanitoso quindi è contento di questa fase della vita comunque l'opera fondamentale di Schopenhauer è il mondo come volontà e rappresentazione il mondo come volontà e rappresentazione riprende un po' la distinzione kantiana della dimensione fenomenica e non-umenica ovvero il mondo fenomenico il mondo che vediamo è un mondo che ci rappresentiamo in questo momento noi siamo convinti direbbe Schopenhauer di essere un giardino filosofico in realtà ognuno di noi sta facendo una rappresentazione la rappresentazione è quella di chi parla di chi ascolta perché è interessato alla filosofia o perché è incuriosito però questo ci porta a modificare il linguaggio a modificare il corpo a modificare gli atteggiamenti e quindi noi non siamo mai naturali non esiste l'essere naturale l'essere è sempre una rappresentazione di sé almeno finché tiene il velo abbassato perché deve rappresentarsi in questo modo la filosofia prima di Schopenhauer aveva trascurato la rappresentazione la filosofia diciamo che prima di Schopenhauer prima di Cartesio prima del 1600 aveva trascurato completamente la rappresentazione diciamo che la filosofia si è mossa intorno a un realismo ingenuo no? la realtà è quella che vediamo che può essere un derivato di Dio un derivato della natura però stiamo sulla realtà è Cartesio che propone una novità che sarà la novità che secondo Schopenhauer pur rispettando Cartesio sarà distruttiva che è quella della rappresentazione no? il corpo non è il corpo che sentiamo ma è il corpo che ci rappresentiamo e il fatto storico che abbiamo vissuto 2020-2021 va proprio in questa direzione il corpo del quale ci hanno parlato non è il nostro corpo non è le pulsioni che sentivamo è il corpo medico è un corpo rappresentato quando Cartesio parla di questo con Cristina di Svezia perché Cristina di Svezia aveva deciso che per vantarsi col mondo aristocratico voleva il più grande filosofo come suo precettore e Cartesio non aveva soldi poverino è andato a morire in Svezia perché gli venne la polmonite per il freddo per diciamo rispondere alla futilità di questa regina Cristina di Svezia gli disse ma il corpo maestro è quello che io sento e lui gli disse lei vede nonostante il suo rango ragiona come il popolo il corpo non è quello che sentiamo ma è quello che ci rappresentiamo il corpo medico ora noi a percezione ci rendiamo conto che il nostro corpo non è soltanto il corpo medico non è che è semplicemente una chimica che ci fa provare attrazioni sessuali o c'è una dimensione di malessere o benessere che è collegato soltanto a una dimensione esterna a noi analitica però è anche vero che se non ci fosse stata la rappresentazione cartesiana per cui le cose sono soltanto quelle chiare evidenti non si starebbe così tanto dentro il pianeta cioè si morirebbe molto prima perché la medicina non poteva svilupparsi e Schopenhauer avrebbe detto bene se la medicina non può svilupparsi vuol dire che si soffrirà meno perché si morirà prima visto che il suicidio non è ammesso quindi bene che non si sviluppi perché Schopenhauer ha davvero questa matrice pessimistica molto forte quindi la rappresentazione è quello che noi vediamo tenendo questo velo di maya che deriva dalla religione induista vediamo il mondo come appare e tutto torna tutto è logico dopo di qui andiamo a casa ceniamo domani chi va a scuola chi va al lavoro è tutto organizzato e sembra che tutto risponda al principio di spazio tempo e causa e freddo quindi il mondo con il velo abbassato secondo l'induista era il mondo che ci facevano vedere facciano vedere le divinità per tenere buona la plebe ma poi la spinta per crescere per diventare di una casta superiore deve essere quella di alzare il velo perché tutto sembra che torni così se alzo il velo e qui non c'è una novità filosofica l'alzare il velo di Schopenhauer e del velo di maya è uscire dalla caverna di platone è quando nella duplicazione dei mondi mi apro un mondo nuovo però quando si esce dalla caverna per platone si vede il sole si vede la luce si vede un mondo molto più bello che ha una spinta addirittura verso un mondo ideale iperuranico dove c'è la perfezione dove c'è la bellezza la gioventù assoluta l'eternità un mondo dove che le nostre anime incontreranno più volte perché ogni volta che moriranno potranno abitare nell'iperuranio per mille anni e tornare con un ricordo sopito di quello che hanno vissuto invece secondo Schopenhauer quando alziamo il velo noi ci rendiamo conto davvero che il mondo è insensato e che non c'è una possibilità di trovare senso non c'è per trovare un senso bisogna riabbassare il velo e vivere nella menzogna la menzogna di Dio la menzogna della scienza che trova la verità la menzogna del fatto che bisogna vivere nel pervenismo e che quindi l'uomo timorato l'uomo che vive per il lavoro per la famiglia è un bravo uomo ma sono tutte forme di rappresentazione ma se alziamo il velo vediamo che noi siamo retti noi siamo qui noi ci muoviamo perché come la formica australiana che non ce la fai ammazzarla perché cerca di ritrovare l'altra metà continuamente noi abbiamo una volontà di vivere che non è positiva perché ci fa abitare in questo mondo che è un mondo drammatico all'uomo converrebbe non nascere e se nasce sperare di morire alla svelta qui viene fuori un'idea che uno dice ma allora esiste una possibilità mi uccido e esco no perché la volontà di vivere siccome lui ha anche influenze spinosiane per cui c'è una sostanza unica come c'è una sostanza unica c'è anche una volontà unica e questa volontà unica non la batto se io mi ammazzo la volontà ha vinto ulteriormente quindi essendoci un nemico l'unico scopo che è qui la differenza perché il nichilismo negativo di Schopenhauer è proprio il fatto che noi non possiamo trovare uno scopo all'esistenza e noi ci rendiamo conto che quando viviamo senza uno scopo anche se senza magari uno scopo costruito dopo un primo periodo di sollievo non ho pensieri quando uno ha finito un esame ha fatto un'impresa e quindi si rilassa dopo un po' rientri nell'ottica del bisogno di un nuovo scopo e invece secondo Schopenhauer l'unico scopo è combattere questa volontà ma è un tentativo che sappiamo già che è fallimentare perché non potremo batterla è più forte di noi quindi noi ci dobbiamo rassegnare al fatto che la nostra vita non ha senso e il fatto di vivere questo ci spinge a la famosa frase di Schopenhauer che la vita è un pendolo che uscilla continuamente tra tristezza e noia tristezza e noia con qualche fugace momento di piacere che ogni tanto ci concediamo ogni tanto capita dove credeva molto nelle amicizie che non si ripetono nel fatto che ogni tanto nascono delle alchimie particolari per cui una persona si è contento di vederla in quel momento cioè questa fugacità che poi evapora immediatamente non è che la vita prende senso ma in quel momento non stai male si sospende ma perché tristezza e noia tristezza e noia la tristezza deriva da un desiderio insoddisfatto quando io desidero fortemente un qualcosa e non avviene questa insoddisfazione spinge ad essere triste quando realizzo il desiderio dopo il primo momento di soddisfazione mi rendo conto che è noia perché poi non accadrà più riaccadrà nello stesso modo ma non avrà più la stessa forza lui fa esempi anche che prende da romanticismo l'innamorato che ha la soddisfazione di vedere l'innamorata che arriva da lui in quel momento prova una soddisfazione che in quel momento lo completa lo fa sentire in sintonia con l'universo ma poi inevitabilmente questo tipo di rapporto quando è un anno due anni tre anni diventa noia non c'è più la sorpresa non c'è più la meraviglia sono anche scemo tutte le volte la vedi sono meravigliato lo so tutti i giorni ci si vede alle 5 quindi alle 5 di cosa ti meravigli Paolo Rossi che è scomparso recentemente campione del mondo del 1982 disse quando è finita la partita mi sono reso conto che ero diventato campione del mondo e io ero stato il giocatore più forte del mondiale ho detto mi devo godere questo momento perché da ora in poi la vita sarà noia cosa potrò che infatti la sua carriera è diventata una carriera che da 26 anni in su è andato a peggiorare perché comunque cosa puoi provare di più quando hai toccato un apice poi ti rendi conto che se sei campione del mondo il giorno dopo fai colazione esci è tutto come prima cioè non è cambiato il mondo sono momenti fugaci che ci prendiamo e allora il desiderio è sempre frutto di un'illusione e noi viviamo questo elemento di insoddisfazione che ci provoca dolore perché quando non realizziamo i nostri desideri abbiamo dolore e la sazietà di quando li realizziamo e ci rendiamo conto che ormai è così e quindi che non è che non è più un desiderio ma è una cosa che accade dal momento che accade diventa noia e il fatto che la rappresentazione no non abbia bisogno poi di testimonianza Schopenhauer lo dice anche prendendo un esempio due grandi filosofi che hanno fatto scelte completamente diverse Galileo Galilei e Giordano Bruno Galileo si dice Giordano Bruno è stato coraggioso Giordano Bruno si è fatto bruciare è andato a rogo per mantenere le sue idee mentre Galileo poi alla fine ha fatto un po' il pisano cioè alla fine ha detto no vabbè a più uno se devo rischiare la vita torno indietro ma in realtà Galileo questo punto di forza perché ce l'aveva perché lui aveva una verità scientifica un'evidenza la storia gli avrebbe dato ragione quindi era inutile fare una testimonianza così forte mentre quelle di Giordano Bruno all'interno del chiostro di Napoli sono meditazioni talmente avanti talmente non dimostrabili che derivano proprio da un frutto di una dimensione filosofica che lui non le poteva dimostrare e l'unico modo che aveva per dimostrare che lui ci credeva davvero era quello di farsi bruciare e non è che e non ha mai chiesto no per favore perché mentre lo stavano portando a Campo dei Fiori lui bestemmiava cioè lui credeva in Dio e bestemmiava proprio contro quella chiesa che non lo voleva capire ora c'è una bellissima statua in via della conciliazione a Roma di Giordano Bruno che dà le spalle al Vaticano con queste tenebre eccetera e purtroppo questa statua esiste ancora sono contento che esista ma purtroppo esiste per volontà pensate un pochino a volte cosa succede di Benito Mussolini che quando è andato a firmare i patti lateranensi ha ceduto su tutto al Vaticano ma gli è venuto un rigurgito laico in quel momento e ha detto no la statua di Giordano Bruno non si tocca se non saltano i patti lateranensi il Papa ha fatto conto e ha detto che comunque gli conveniva firmare i patti che gli hanno dato un potere enorme che esiste ancora e noi viviamo in questa volontà di vivere che è cieca e nazionale imperitura e cos'è che pensiamo che ci dia una grande energia l'amore e la sessualità l'amore e la sessualità sono la massima espressione della presa di giro dell'uomo perché l'uomo in quel momento ha davvero l'idea di provare un piacere intenso fortissimo ma questo piacere lo prova perché la natura lo spinge a provare quel piacere lo vuole quello perché provando quel piacere creerà altre infelicità e quindi il mondo andrà sempre peggio perché inoltre i bambini nella nostra cultura stanno molto più con le madri le donne secondo Schopenhauer sono più stupide degli uomini e quindi essendo più stupide degli uomini insegneranno sempre meno e quindi avremo una generazione di ragazzi sempre più stupidi e meno preparati quindi il maschio che avrebbe anche una capacità in più però è troppo preso dall'attrazione sessuale e l'attrazione sessuale che opera anche a livello animale però a livello umano prende ancora più in giro perché l'animale non può rendersi conto di essere lo zimbello della natura mentre l'uomo lo sa ci può arrivare basta alzare il velo le persone tengono il velo abbassato non perché non sono intelligenti ma perché non hanno coraggio alzare il velo vuol dire che vedi davvero questo dramma e questo dolore però al mondo ci siamo qualcosa bisogna fare non ci si può ammazzare e allora bisogna tentare di combattere questa volontà di vivere e questa volontà di vivere si combatte come? attraverso tre vie di liberazione dal dolore la prima è una via temporanea la via estetica quando noi incontriamo il bello quando faccio questa spiegazione mi viene sempre in mente il fregio di Beethoven di Klimt che io non mi aspettavo che fosse così perché l'avevo visto soltanto sui libri non mi aspettavo che fosse quest'opera in mezzo e sono rimasto davvero senza fiato veramente rapito in quel momento non c'è volontà di vivere cioè quando il bello ti colpisce in quel modo non c'è un pensiero che sia collegabile non puoi pensare ad altro perché il bello ti ha rapito quando ci sono tornato non avevo avuto lo stesso effetto me l'aspettavo anzi avevo preparato le persone che erano venute con me guarda è bellissimo sono rimasto deluse perché quando c'è tanto entusiasmo gli altri si aspettano un qualcosa che invece è accaduto a te un mio amico mi disse ho incontrato una donna straordinaria io rimasi non stavo mai dirglielo per me era normale perché lui la vedeva così ma la vedeva così alla prima volta come un brano musicale il brano musicale non ti colpisce al primo ascolto ma nel momento che ti rendi conto che quel brano ti sta dando un'emozione forte quando lo vai a risentire per ricercare quell'emozione è già costruita è già persa quindi è solo in quell'attimo puoi sospendere la volontà di vivere per un attimo come nell'orgasmo quindi lui paragona la dimensione estetica alla dimensione orgasmica che non è l'atto sessuale intero ma proprio quel momento in cui in quell'attimo la volontà di vivere non c'è scompare ma poi ritorna e non puoi ripeterlo non puoi fare la stessa cosa perché lo sai già e allora se non riesco a sospendere cerco di attenuare e l'attenuazione come avviene? sul fatto che il mondo è profondamente giusto questo attenua al dolore perché durante il lockdown noi abbiamo cominciato a provare invidia per i fornai cioè per chi la mattina poteva uscire e andare al lavoro quando noi eravamo chiusi in casa no? perché cos'è che ci ha tutelato? il fatto che eravamo tutti chiusi no? perché se il lockdown fosse stato fatto solo per i pelati uno dice cioè come allora l'hanno presa o me o forse dalla lettera alla lettera stanno chiusi in casa il fatto che riguarda tutti ti fa sentire che c'è una giustizia non perché è giusto ma perché non c'è da provare invidia per nessuno non c'è un uomo che si può salvare non c'è un uomo che sta meglio di un altro gli uomini stanno tutti male non hanno nessuno assenso e quindi questa giustizia attenua al dolore e allora se c'è una giustizia che attenua al dolore quando un dolore è forte noi sentiamo un bisogno molto profondo è un bisogno che ci ha portato a creare l'atto teatrale più importante della storia dell'umanità come dice un antropologo straordinario museo che ha fatto tutto uno studio sui funerali il funerale è un grandissimo atto teatrale raramente c'è un'emozione in un atto come c'è al funerale e il funerale non si fa per chi va via il funerale si fa per chi rimane e il funerale provoca una compassione una condivisione dello stesso dramma in quel momento le persone piangendo abbracciandosi si sentono unite all'interno dello stesso dramma come per attenuarlo no? se ognuno di noi purtroppo ha vissuto dei funerali ci sono dei funerali dove non riesci ad andare via perché capisci che se vai via perdi questa condivisione rimani solo con il tuo dolore sarebbe insopportabile allora hai bisogno proprio della condivisione il dolore ha bisogno di essere molto più condiviso del piacere il dolore non ha bisogno di manifestazioni urlate dicevano i greci goditi i rari momenti di felicità e quando capita il dolore sostienilo con dignità però lo devi vivere e in modo degno lo condividi con gli altri però è una forma di attenuazione Schopenhauer ha un altro fra tanti meriti che ha avuto ha avuto anche il grande merito di portare la cultura orientale in occidente ha sdoganato la grande diatriba orientalisti occidentalisti sulle origini della filosofia non ci ha fatto capire che forse nella greci ci sono state tantissime influenze che derivavano dal mondo orientale le abbiamo negate anche per una volontà di superiorità e invece Schopenhauer dice gli occidentali sono partiti per fare messaggeri di un mondo giusto sono arrivati in oriente e sono tornati come testimoni cioè è il mondo orientale che ha insegnato agli occidentali se pensiamo alla figura di Alessandro Magno che quando parte per le conquiste Aristotele gli dice guarda vai porta il mio pensiero Aristotele era stato il precettore di Alessandro Magno perché Olimpia la madre di Alessandro Magno voleva fortemente che il figlio diventasse un figlio colto li ha ucciso il marito perché era un marito troppo rozzo aveva paura che educasse poco il figlio e quando sa Aristotele che sta tornando ad Alessandro Magno va lì con ansia ad aspettarlo mi racconterai che hai portato la logica aristotelica in tutto l'Oriente io diventerò sempre più famoso invece lo vede arrivare tutto pitturato con una moglie orientale dice cosa è successo quasi lo disconosce perché Alessandro Magno ha avuto influenze dall'Oriente allora il mondo orientale ha una strategia individuale per uscire dal dolore il dolore deriva sempre da un desiderio che produce una mancanza il desiderio che produce una mancanza sottopone le persone a ricatto quando una persona è molto innamorata è ricattabile quando una persona è molto esposta economicamente è ricattabile quando una persona è più debole di un'altra è ricattabile se viene qui Tyson dice devi smettere smetto non è che mi metta a discutere noi abbiamo paura c'è un ricatto possibile quindi lo sciamano la dimensione del nirvana della noluntas dell'annullamento totale delle passioni parte proprio dal presupposto di non avere più possibilità di essere ricattato per cui il primo ricatto è ricatto sessuale ovvero se io ho bisogno del rapporto sessuale ho bisogno dell'altro e l'altro mi può ricattare per produrre piacere quindi avviare un percorso di autoerotismo sobrio cioè raramente fino ad arrivare all'annullamento totale perché l'abitudine l'uomo è tutto abitus piano piano se io non faccio più sesso secondo Schopenhauer secondo la dimensione del nirvana non ho più bisogno dell'atto sessuale quindi non sono più ricattabile l'altro elemento è il cibo no? quante volte mi sono messo a dieta per 20 minuti no? cioè già mi metto a dieta quando sono sazio cioè ho mangiato già ora basta mi metto a dieta poi dopo due o tre ore vedi la pastiera dici vabbè inizio domani no? cioè se non ci fossero pastiere non ci fosse casatielle eccetera non ci metto a dieta non c'è nessun problema il problema è che poi quando sei a dieta vedi gli altri che mangiano e il odorino ti ricatta quindi te devi arrivare a nutrirti soltanto per la dimensione del nutrimento lui suggeriva ghiande e acqua dice poi non ti viene voglia di mangiare no? quindi non è che dici ora alle sette finalmente finisco vado trovo il piattino con tre ghiande no? quindi non ho più il non sono più ricattabile sul cibo poi c'è la paura del dolore se inizio un percorso di autofustigazione camminare sul fuoco eccetera io poi non ho più paura del dolore è un percorso quello del nirvana che però l'uomo occidentale non è in grado di portare avanti perché l'uomo occidentale è troppo abituato ad altro quindi in occidente non ci resta che rifiutare ogni forma di ottimismo no? Schopenhauer diceva Dante quando ha dovuto descrivere il paradiso non trovava le parole per l'inferno basta guardarsi intorno vorrà dire qualcosa che il mondo la descrizione del male cioè quando facevo dei laboratori emotivi con gli adolescenti alla scuola media di tutto il male possibile a un altro attori straordinari di tutto di tutto il bene mutismo il male viene il male colora immediatamente no? quindi perché? perché siamo qualcuno dice per una forma di inibizione secondo Schopenhauer perché se ci guardiamo intorno noi e abbiamo il coraggio di alzare un attimino il velo noi ci rendiamo davvero conto che viviamo nel male quindi il rifiuto di ogni forma di ottimismo cosmico il mondo non ha ragione Ege non è un luogo dove si sta bene è un luogo disastroso e non c'è un mondo migliore di un altro il rifiuto dell'ottimismo storico per cui la storia ci porta naturalmente o grazie all'azione dell'uomo Marx quindi si può tramite la classe sociale modificare il corso della storia oppure tramite l'idealismo lo spirito assoluto la storia ci porta a un miglioramento la storia è un insieme di pulsioni dovute alla volontà di vivere che non hanno nessuna prospettiva nessuno scopo e rifiuto dell'ottimismo sociale non c'è una società migliore di un'altra questo invece sarà la grande forza di Freud il miglioramento civile tutte le società fanno schifo quindi è inutile illuderci Schopenhauer nei vari aneddoti ha anche regalato casse di binocoli agli eserciti che sparavano su rivoltosi per colpirli prima dice ma non tanto perché ce l'ho con loro perché loro si illudono quindi meglio togliere l'illusione subito quindi li manda questa cassa di minocoli poi era uno che veramente era un incoerente totale ma perché era dentro la sua filosofia ma ha avuto anche delle linee di coerenza incredibili cioè l'episodio che è un episodio violento ovviamente ci si ride perché è successo tanto tempo fa però che fa capire anche il carattere di Schopenhauer è un fatto vero quello è stato accertato da molti e lui l'ha raccontato più volte del fatto che abbia picchiato ma in maniera molto dura alla vicina di casa perché aveva una voce stridula e batteva i panni mentre lui studiava e lui ha detto se la vita non ha senso perché devo sopportare anche questo e l'ha buttata giù dalle scale è stato costretto a pagare 18 talleri annui per i danni provocati e lui ha detto al tribunale disse vedete che ho ragione che la vita non ha senso lei che ha avuto la fortuna di essere stata toccata da Schopenhauer anziché pagarmi lei mi tocca pagarla a me la vita non ha davvero senso ma al di là di questi aspetti che me lo fanno pensare più livornese che di Danzica ogni tanto quando leggo Schopenhauer io lo vedo al moletto in realtà la città di provenienza Danzica anche se lui a Danzica non ha vissuto tantissimo influenza molto Danzica è la città che ha fatto la storia purtroppo la seconda guerra mondiale è un corridoio è un corridoio che apre occidente e oriente e Schopenhauer ha sempre vissuto in questo modo Schopenhauer ha avuto anche la fortuna di poter fare riflessioni alte grazie a una famiglia facoltosa il padre era banchiere la madre era una letterata che ha aperto un salotto di letteratura a Weimar importantissimo dove frequentato da Goethe quindi Schopenhauer ha vissuto intorno a questo e Schopenhauer che eredità ha lasciato la prima grande eredità è quella di Nietzsche Nietzsche scrive Schopenhauer come educatore e bisogna imparare da lui cioè l'inattualità Schopenhauer è un filosofo che si dichiarava inattuale porta Nietzsche a dichiararsi anche lui inattuale inattuale vuol dire che verrò capito no? Nietzsche dice chissà se fra 50 anni qualcuno capirà qualcosa di quello che volevo dire questo è il destino di ogni maestro dell'umanità quale io sono non è la gente molto modesta e Nietzsche forse abbiamo capito qualcosa ma anche a duro prezzo perché ci ha messo davvero in crisi cioè è un filosofo che ha inciso perché la filosofia uno può anche decidere di trascurarla no? però siccome esiste e se esiste ha un valore quando la incontri ti modifica è più forte di te ti rendi conto che c'è un senso in questi filosofi che non è semplicemente gente che svagella come diceva qualche mio alunno ma sono persone che vanno a ricercare una profondità che è una profondità che poi entra davvero nelle viscere e quindi Nietzsche semplicemente cosa ha fatto? Anziché aver paura delle menzogne mettiamoci maschere dionisiache perché il carnevale è bello? Perché nel carnevale io divento davvero un altro? Perché il teatro è entusiasmante? Perché nel teatro io so che non sono quello ma in quel momento posso sparare davvero a qualcuno sono libero di farlo quindi prendere questo elemento e trasformarlo in dionisiaco in libertà di espressione sapendo che ha ragione Schopenhauer e passare tramite la trasmutazione dei valori da un nichilismo passivo la vita non ha senso e mi rassegno a un nichilismo attivo la vita non ha senso e mi godo la mancanza di senso questo però come diceva nelle conferenze per voi non vale perché siete piccoli uomini vale per me quando l'oltreuomo arriverà e quindi spinge i pochi che mi capiranno i seguaci non è la sua era una filosofia che si dichiarava aristocratica un'altra grande eredità è quella di Freud l'inconscio non lo scopre Freud e Freud lo dice l'inconscio non lo scopre Schopenhauer il fatto che ci sia un interno dove si va a mescolare tutto e che ci fa capire che non c'è un senso rispetto alle nostre nevrosi non c'è un senso per cui io devo tenere il bicchiere dell'acqua sul comodino e non la bevo mai però se no non dormo se non ho il bicchiere dell'acqua non c'è un senso logico che devi mettere in ordine libri o avere uno schema di riferimento è un meccanismo inconscio che si è insediato è il mondo come rappresentazione quando noi stiamo male tanti di noi sistemano io quando mi inizio a sistemare la libreria vuol dire che sono messo malissimo è proprio un segnale che mi sto mi arriva aiuto perché è come per dire aiuto la vita è un caos non capisco più niente incontri degli amici prima si parlava da altre cose allora quello è venuto un infarto va in crisi aiuto devo morire allora sistemi la libreria come dire in un attimo rimetto ordine ma è una nevrosi ma questo ce lo fa scoprire il mondo come rappresentazione di Schopenhauer semplicemente Freud cosa dice noi abbiamo bisogno di una morale l'io ha bisogno di un superio di una morale che lo accompagni perché noi abbiamo bisogno di una dose di civiltà altrimenti siamo sconfitti in partenza io non posso andare a cercare andare a cercare un senso anche se so che è costruito perché l'uomo non è in grado di vivere come Schopenhauer chiede o come Nice chiede quindi l'uomo deve cercare di trovare rispetto a questa forma di rappresentazione una sua parte in commedia e all'interno di quella parte in commedia cercare di essere il meno infelice possibile la felicità è molto complicata ma intanto si può cercare di non essere infelici vado veloce nel secondo anche se meriterebbe attenzione però non voglio abusare della vostra pazienza Zohar in Kierkegaard è invece un esistenzialista già a picco della mirandola ce l'ha detto l'uomo non ha essenza l'essenza dell'uomo è una costruzione che deriva dall'esistenza Platone grande idealista c'è l'uso ci ha detto che noi abbiamo un'essenza un'anima aurea argentea bronzea su cui poi costruiamo l'esistenza di la religione c'è l'uso Dio ci dona un'anima su cui poi noi costruiamo un'esistenza e dobbiamo essere timorati di Dio no l'esistenza precede tutto c'è un'esistenza che precede l'essenza quindi io sono quello che divento ora quando me lo dice Sartre grande esistenzialista a cui abbiamo dedicato un giardino filosofico e ci dice Dio non esiste può tornare Kierkegaard invece è un uomo che crede in Dio però crede che Dio abbia fatto una scelta dilaniante Dio poteva scegliere due cose o salvarci o renderci liberi il Dio cattolico è un Dio salvatore il Dio protestante è un Dio che libera ci ha lasciato liberi quindi non ci tutela sta a noi ora lui ci butta in mare e ora tocca a noi nuotare ma non c'è un senso in tutto questo e lui ci dice questo che l'angoscia è proprio frutto del mondo stare al mondo vuol dire dover scegliere la scelta produce angoscia e l'Io il mondo la collettività produce angoscia l'Io è disperato perché sa che ogni scelta che farà è sempre negativa cioè noi scegliamo e ogni volta che scegliamo pensiamo a cosa abbiamo lasciato che è sempre di più è lì il grande problema perché quando uno fa una scelta ed è felice della scelta vuol dire che non ha scelto uno deve scegliere se vivere a Livorno o a Novara e scegli Novara vuol dire che sta male se scegli Livorno non è una scelta è naturale c'è il mare c'è tutto quindi scegli non è una scelta viene da sé quando viene da sé dice sono innamorata di un uomo un uomo mi fa schifo scelgo quello di cui sono innamorato non è una scelta viene la scelta è quando io ho bisogno di entrambe le cose e sono dilaniato sono dilaniato perché vorrei questo e questo ma insieme non possono stare l'uomo vorrebbe la sicurezza e la libertà e ogni volta che noi facciamo una scelta libera ci sentiamo meno sicuri ogni volta che noi facciamo una scelta sicura ci sentiamo meno liberi quindi voglio andare a fare questa esperienza andare via da questa città però in questa città ho questi affetti quindi la scelta è dilaniante finisce che se rimango in questa città poi penso a tutte le prospettive che ho perso se vado via penso agli affetti che ho perso perché ciò che lascio è infinito perché non so cosa poteva essere quello che prendo è uno c'è anche Maddalena quindi abbiamo la professoressa di matematica tra uno e infinito non c'è concordi che non c'è paragone quindi il rapporto è un rapporto di perdita totale quindi la scelta porta sempre a una negatività la dialettica di Hegel era una dialettica tesi antitesi sintesi con soluzione la dialettica di Kierkegaard è out out o questo o quello e scegliere è impossibile perché è impossibile vivere è qui che arriva veramente il disastro e quindi noi anche qui l'uomo deve vivere l'angoscia perché se la nostra essenza è essere angoscia non si può scappare però Kierkegaard è un filosofo che piace molto ai ragazzi anche perché secondo me determinate vie non le hanno sperimentate per età proprio no perché lui cosa ti dice nella prima fase dell'esistenza uno si domanda ma perché dovrei essere angosciato c'è tanta meraviglia intorno ed è la via la vita estetica il Don Giovanni il diario di un seduttore del libretto di Mozart no la seduzione cos'è è un momento magico è l'espressione di sé all'ennesima potenza l'altro mi riconosce come soggetto di interesse quindi chi prova il piacere del sedurre non è semplice non c'entra niente nemmeno nel Don Giovanni l'atto sessuale quello che è inebriante per il Don Giovanni è vedere queste donne che lo guardano e sono perse per lui e una dietro l'altra e quindi perché dovrebbe finire questa magia perché le donne sono un numero enorme anche Don Giovanni non potrà conoscere tutte le donne belle però poi a un certo punto questo desiderio che è così alto che è lo stesso desiderio di un giovane che dice voglio fare musica voglio fare questa esperienza di volontariato voglio conoscere dice ma dov'è che la vita è angosciante la vita è piena è carica ha un'energia a un certo punto il desiderio diventa desiderio di desiderare è un momento dolorosissimo perché siccome ho provato quando c'era del desiderio ora il desiderio di desiderare è vorrei tornare a vivere quel desiderio ma non è più così io mi ricordo e lo cito spesso una ragazza che ha uno sportello d'ascolto mi era ma stava male stava male aveva perso chili stava male cioè non è che era lì e diceva una cosa tanto per dire perché gli mancava il fidanzato che aveva lasciato e questo fidanzato era disponibilissimo a tornare ad essere fidanzato quindi nella razionalità uno più uno ti ci rimetti insieme e non vieni a darmi allo sportello allo sportello d'ascolto la frase che mi disse di una profondità unica a me non manca lui ma quello che mi faceva provare che ora non proverai più con lui quindi lì il desiderio diventa il desiderio come era bello svegliarsi la mattina quando ero innamorata come era bello provare questa emozione andare a fare questa cosa andare al concerto e sentirsi veramente liberi vivi potenti ma poi a un certo punto non capita più e allora diventi patetico perché riproponi quello che prima era veramente forte in un modo ormai tipico ti rimetti lo stesso abito perché prima funzionava e anche il Don Giovanni comincia a diventare patetico scrive la stessa poesia per la stessa donna usa la stessa tattica quindi diventa quasi un lavoro industriale quello del meccanismo della seduzione e Don Giovanni non ha mai provato una cosa a perdersi lui per una donna a sentirsi appartenente completamente a questa donna e questa scelta è out out deve abbandonare completamente la via dell'amante e diventare marito ora e che direbbe poi fa il marito e averci le canze la soluzione c'è nella sintesi per Kierkegaard no perché non vivi nell'uno e nell'altro se sei marito amante non sei né marito né amante perché non ha il coraggio di entrare in un ruolo c'è molta più coerenza in Kierkegaard Kierkegaard lascerà anche Regina Olsen dopo un fidanzamento è stato un fidanzamento tormentato una storia d'amore meravigliosa lui era più grande i genitori non volevano alla fine i genitori hanno capito quanto l'amava e lui l'ha lasciata alle soglie del matrimonio perché aveva paura che diventasse un elemento ripetitivo della sua esistenza che quindi lui sarebbe diventata una storia come tante e l'ha lasciata anche con una grande eredità facendola staccare da sé con grande dolore e gli amici dicono ma cosa fai perché ci piangeva lui faceva finta di essere ubriaco e non era vero di essere alcolizzato di avere un amante a Berlino pur di non farla soffrire e potersi staccare ma staccare per andare in una dimensione che per lui era soltanto dolore ma si capisce quando parla proprio di questa vita etica dove il marito è anche un ottimo padre fa di mestiere il giudice la massima espressione dell'eticità i giudici io non vorrei mai fare il giudice cioè quanti pesi ti porti dietro nel caso che un errore di un giudice forse è addirittura più forte di un errore di un medico perché c'è la reclusione quindi una dimensione etica di lucidità enorme nel tempo libero è assessore del proprio comune perché partecipa alla vita quella vita è piena non deve scegliere nulla dalla mattina alla sera sa cosa fare figli moglie tribunale comune cioè arriva a sera stanco e quando noi entriamo nella fase della vita che la vita ci guida e ci governa e non siamo più noi a governarla no? cioè per cui entri in un meccanismo quasi di droga per cui un impegno tira l'altro e tutti impegni piacevoli lui ama la moglie ama i figli ama la legge ama la politica una vita piena ricca a un certo punto si domanda perché fa tutto questo lo fa per evitare l'angoscia e gli va nel dolore profondo e allora rimane una scelta unica scandalo rottura con il mondo il mondo non può capire la scelta definitiva il mondo non può capire cosa Dio perché Dio è infinito e il mondo è finito quindi quando un uomo sceglie Dio il mondo non lo comprende e Dio ce l'ha fatto capire bene il primo cristiano Abramo è incomprensibile al mondo Abramo aveva due desideri amare Dio e avere un figlio il figlio non arriva sarà un dono di Dio in tarda età è completamente appagato lui è timorato di Dio e ha il figlio da amare Dio gli dà l'ordine più terribile un ricatto violento se mi ami devi uccidere tuo figlio quella scelta è ovvio che detto a me che sono ateo non so se se è Dio ma comunque non ci penso oppure anche il credente moderato che oggi è molto diffuso dice no vabbè cambio Dio cerco un'altra assicurazione sulla vita perché io il figlio non lo tocco il figlio che amo Abramo crede in Dio ma crede profondamente in Dio io penso davvero feci un corso di formazione mi ricordo che mi ha entusiasmato la scena era surreale perché lo feci in un convento ad un gruppo di suore che diventavano educatrici quindi c'ero io con le mie magliette loro tutte vestite da suore l'immagine era strepitosa però la cosa che mi colpì è la scelta profonda di queste donne cioè loro hanno scelto davvero io ho sempre pensato suora non posso farmi ma se un giorno cioè davvero io credo in Dio io abbandono tutto il resto cioè non ci può essere qualcosa che mi rapisce meno di Dio meno male Babbo mi ha insegnato l'ateismo quindi sono sono a posto però è una scelta forte e Abramo è forte Abramo è disponibile a uccidere il figlio ma vi immaginate com'è dilaniato è dilaniato e il mondo intorno quando si è dilaniato così non ti capisce sei te che sei disponibile a uccidere il tuo figlio io ti giudico io penso che tu sia una persona sbagliata nel momento della massima sofferenza l'uomo è solo perché quando fa una scelta forte l'uomo è solo perché anche quando uno fa una scelta in un mondo perbenista come questo che è leggermente scandalosa diventa solo no? perché se uno fa la scelta di dire abbandono questo lavoro abbandono questa responsabilità c'è subito chi ti giudica eppure abbiamo visto che sono crollate le grandi responsabilità nel 1989 l'Unione Sovietica non si è più presa la responsabilità di gestire un mondo il muro di Berlino è crollato perché non si è avuto il coraggio di una scelta non perché qualcuno più forte ha vinto nel 2013 ma con tutto il rispetto Ratzinger abbandona il ruolo di Papa è una cosa che forse fra 70 anni si capirà il significato profondo enorme unico di quel gesto cioè se uno si dimette da Papa Papa è scelto da Dio vuol dire che uno può dimettersi anche da padre uno può togliersi qualunque responsabilità e allora davvero siamo nell'incoscienza felice di Lyotard del pensiero debole non è un giudizio il mio è una riflessione su un mondo che sta andando ma che Pasolini e Gramsci hanno anticipato Emma che lavora sulle scenerie di Gramsci Pasolini e Gramsci hanno anticipato il fatto che il mondo stava svendendosi completamente è una dimensione commerciale dove anche lo scandalo era uno scandalo costruito e che aveva un valore spendibile per cui mi vesto in un certo modo mi presento a Sanremo tutti ne parlano ero scandalizzato ma non è questo lo scandalo di Abramo lo scandalo di Abramo è una rottura totale è la forza che ha avuto Kierkegaard da lasciare Regina Olse ma che forza ci vuole a lasciare una donna non perché ora comincia a rompere le scatole ma della quale sei profondamente innamorato e non ne vuoi nessun'altra lui non ha più avuto nessun'altra donna per andare a vivere Dio è di una profondità unica e Abramo non sarà mai compreso Dio lo ferma ma questo è secondario è la disponibilità di Abramo di Abramo a rompere col mondo che è la vera angoscia Kierkegaard è stato un filosofo che ha le opere di Kierkegaard non ci aiutano Outout ti svia perché non scrive in modo sistematico è un insieme di aforismi forse le uniche opere leggibili proprio nella forma del trattato filosofico sono il concetto di angoscia del 1844 e la malattia mortale ma l'opera fondamentale è Outout e quindi il pessimismo caratterizza l'Ottocento e va contro gli ottimismi idealistico di Hegel comunista di Marx perché è comunque un ottimismo lui vede un soldo dell'avvenire una società futura ma anticipa le crisi delle certezze e diciamo che nella crisi delle certezze occorre starci oggi non c'è più nessun filosofo nessun a parte qualche fanatico che crede di aver trovato la verità assoluta granitica e che possa diffonderla agli altri oggi siamo alla ricerca di un senso di verità più che di verità e chiudo l'ultima frase è dedicata a un filosofo Gadamer che ci invita a fondere orizzonti diversi per andare alla ricerca di verità che siamo in grado poi di gestire ma che sappiamo che poi dovranno essere messe in discussione di nuovo non affezioniamoci a nessuna verità che sia assoluta non si parlava ci sono le alunne non le ho costrette sono venute anche di domenica qualche mia alunna si parlava proprio con Giulia su questo elemento della flessibilità e dell'inflessibilità verso noi stessi parlando di Locke si può essere inflessibili con noi stessi in un'epoca forse dove ci sono delle certezze assolute sì oggi non essendoci più certezze assolute noi dobbiamo essere flessibili che non vuol dire superficiali o cialtroni con gli altri e anche con noi stessi perché da qui a poco cambieremo idea troveremo delle nuove verità e saremo alla ricerca sempre di un qualcosa che provocherà come diceva Jean Paul Sartre una mancanza di mancanza grazie grazie applausi 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 applausi